Buonasera a tutti e ho finito le parole in spagnolo. È però per me un grande onore essere qua oggi in questo Ateneo così importante nella storia non soltanto dell'Argentina, in questa Università che è un punto di riferimento per tutto il mondo di lingua e cultura ispanica e quindi per tutto il mondo. L'Argentina e questa Università hanno dato tanto al mondo in termini di produzione di cultura e di conoscenza. Non a caso l'Argentina è il paese latinoamericano con il maggior numero di premi Nobel e vorrei ricordare anche i laureati di questa Università, dell'Università di Buenos Aires che hanno ottenuto il Nobel per la pace, per la medicina, per la chimica, ai quali si aggiunge Adolfo Perez Esquivel che non ha studiato in questa Università ma che è docente di questo Ateneo, premio Nobel per la pace del 1980. Ho fortemente voluto e vi sono grato per l'invito, avere l'occasione di un incontro in questa Università Europa perché in ciascun viaggio istituzionale, in ciascuna missione istituzionale che facciamo, solitamente diamo attenzione e importanza agli elementi economici. Quando gli ambasciatori giustamente, i diplomatici giustamente, i tecnici, lo staff, il team che lavora con te ti prepara a una visita, arrivano montagne di statistiche, documenti, scartoffie. E' molto importante perché una visita in un paese amico è sempre una grande occasione. E allora troviamo tutte le statistiche del PIL, dell'interscambio commerciale, delle occasioni di business economico, poi arrivano gli imprenditori e ti dicono, eh c'è questa grande opportunità, non buttiamola via, tutte cose molto giuste, molto importanti. Ma noi pensiamo che la grandezza dei popoli, la grandezza dei paesi non passi solamente dal valore economico che rappresenta. Io sono molto convinto delle opportunità economiche che Argentina e Italia hanno davanti. se dovessi ragionare delle sfide che nel futuro si aprono dinanzi a noi, non avrei dubbi nell'individuare Argentina e Italia come due dei paesi che avranno un grande ruolo nei prossimi vent'anni nell'economia globale. Ma mi permetterete, non vorrei partire di qui. Vorrei partire dall'università, vorrei partire dalla cultura, vorrei partire dalla conoscenza, vorrei partire dalla ricerca. Le università sono i templi del sapere e sono i depositari della nostra identità. Per questo motivo credo che sia davvero un grande onore per me essere oggi vostro ospite, perché l'università di Buenos Aires rappresenta un pilastro dell'Argentina e la nostra amicizia, la nostra identità di vedute, la nostra vicinanza tra Argentina e Italia sono forgiate e valorizzate dalla nostra amicizia culturale. Da 18 anni un presidente del Consiglio dei Ministri non visitava l'Argentina. 18 anni sono un periodo molto molto importante. Un bambino fa in tempo a nascere e a diventare maggiorenne, andare a votare, a guidare, a prendere la patente e in 18 anni l'economia intorno a noi è cambiata profondamente. 18 anni fa l'economia digitale era poco più che un'intuizione. Aziende che lavoravano nel settore dei telefoni hanno visto completamente cambiato il proprio modello di business. Oggi il telefono non è più soltanto un telefono, è contemporaneamente una macchina fotografica, uno strumento di messaggistica, un modo per navigare su internet. Ancora non hanno trovato il telefono che fa anche il caffè espresso giusto, ma non escludo che ci arrivino. È un modello totalmente in evoluzione. Fuori da noi in questi 18 anni è cambiato molto. È cambiato molto per la minaccia terroristica globale. È cambiato molto anche in Argentina e in Italia. Io credo però che ci sia qualcosa che rimane fortissimo tra di noi. Argentina e Italia non sono due popoli cugini, come diciamo spesso quando vogliamo parlare di popoli che sono vicini. Argentina e Italia sono due nazioni sorelle che hanno una relazione speciale. Vorrei dunque scusarmi a nome del governo italiano per il ritardo di questi 18 anni e prendere un impegno a far sì che già nei prossimi 18 mesi una missione di sistema a livello economico, la presenza del Ministro della Cultura, la presenza dei ministeri più importanti, dimostreranno con chiarezza e concretezza come noi crediamo a questa relazione speciale. È una relazione storica che va avanti da molti secoli, penso alcuni vostri eroi nazionali, ad esempio Manuel Belgrano, che era il figlio di un commerciante ligure il cui patriottismo fu fondamentale per ottenere l'indipendenza dell'Argentina. Penso agli oltre 3 milioni di emigranti italiani che costituirono la base per lo sviluppo economico e demografico di questo meraviglioso paese, facendolo diventare nella prima metà del XX secolo quello che veniva chiamato il granaio del mondo e tra le principali potenze economiche del pianeta. Oggi con 900 mila connazionali la comunità italiana argentina è la più numerosa. A Buenos Aires ci sono più italiani che a Bologna, qualcosa vorrà pur dire. Penso ai vincoli culturali che ci legano ancora oggi. Penso agli abitanti della Boca che ricordano i migranti genovesi che lì trovarono il punto di approdo. Penso alla lingua che accomuna con il castigliano così particolare. Penso soprattutto però al modo di pensare, di vivere, di gustare l'esistenza. Anche la gastronomia ho la passione per lo sport. Ma è un certo modello di valori. Oggi è un mondo nel quale tutti pensano che valgano soltanto i numeri. Noi pensiamo che valga soprattutto l'anima, l'ideale, la passione, l'entusiasmo, la gioia di vivere. Questo legame così profondo tra di noi è un legame che supera la distanza geografica. Italianità e argentinità sono due modi di essere perfettamente riconoscibili e tra loro molto simili. E tante storie personali lo dimostrano. Non da ultima la storia personale dell'attuale Vescovo di Roma che è stato Papa Francesco, che è stato non soltanto il Vescovo di Buenos Aires ma che è figlio di emigranti giunto in Argentina dall'Italia, dal Piemonte. E ci sono in tante nostre vicende, vicissitudini personali, storie, racconti, persone, singoli episodi che dimostrano la fecondità di questo rapporto. Però io non credo che sia il passato quello che ci unisce. Non nego che ci sia un grandissimo passato tra di noi. E stamattina parlando ai ragazzi delle scuole italiane in Argentina, alla Cristoforo Colombo, ho chiesto loro di immaginare le scene dei loro nonni o dei loro bisnonni. Provate a immaginare il momento in cui decidono di partire, in cui legano con lo spago la valigia dove magari non ci sta tutto. E quel poco che c'è tutta una vita. Pensate alla guazzabuglio di emozioni che sta nel cuore di un uomo che lascia la propria terra per trovare una casa. Pensate alla bellezza di chi lo accoglie, gli spalanca le porte, gli offre un'opportunità, non lo tratta da nemico ma lo tratta da fratello. Gli consente di ripartire, di farsi una vita. E gli consente in questo gesto di accoglienza di essere a contatto con quanto di più grande ci sia l'umanità profonda. Oggi i ragazzi non immaginano cosa volesse dire un viaggio di 20 giorni, di un mese in nave. E forse nemmeno io riesco a capire, e molti di noi, a capire cosa abbia significato quel tipo di esperienza. Oggi il viaggio è totalmente diverso, oggi il viaggio è con un click. Oggi un ragazzo che sia nella periferia di Buenos Aires o di Roma ha accesso alle stesse informazioni tramite un mobile, una connessione internet. Oggi le distanze sembrano cadere, oggi il mondo è globale ma in questo mondo globale l'amicizia tra Italia e Argentina non ha senso per il passato, ha senso per il futuro. Non siamo qui a commemorare un grande passato, non siamo qui a ricordare una pagina importante, siamo qui in faccia, in fronte a grandi sconvolgimenti del mondo e della geopolitica. Il terrorismo fondamentalista ha dichiarato guerra al nostro stile di vita democratico, in Europa soprattutto, ma non soltanto in Europa. La volatilità dei mercati finanziari rende più fragile la ripresa, e voi ne sapete qualcosa. L'austerity eccessiva ha rallentato per troppo tempo la creazione di posti di lavoro, mettendo a rischio il futuro di giovani. Servono risposte innovative, coraggiose, servono risposte capaci di restituire il senso di una sfida che possa impegnare un'intera generazione. Il nostro governo in Italia ci sta provando con impegno, tenacia, dedizione. Abbiamo scelto di fare alcune riforme impegnative, la riforma del mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, e la disoccupazione finalmente in Italia sta calando. Una ambiziosa riforma istituzionale, riduzione del numero dei parlamentari. In Italia non è la cosa più semplice ridurre il numero di quelli che fanno politica. Lo stiamo facendo. Trasformazione del Senato nell'Assemblea delle Autonomie Regionali, una legge elettorale che assicuri stabilità e governabilità, e alcune iniziative contro la corruzione e in favore della trasparenza che hanno visto la nascita, ad esempio, dell'ANAC. Se Expo Milano, fino a due anni fa, era richiamato nel mondo per gli scandali e dopo l'evento è diventata una grande occasione di crescita e di valorizzazione, è anche grazie alle modifiche normative. Se ci pensate questo aiuta ad attrarre investimenti. Vi do un dato che riguarda l'Italia e poi vengo all'Argentina. Nel 2013 gli investimenti diretti esteri, indice IDE, erano di circa 12 miliardi in Italia. Nel 2015, due anni dopo, dopo le prime riforme, sono passati a 74 miliardi di euro. Da 12 a 74 miliardi di euro. E la cosa interessante è che la maggior parte di questi investimenti sono investimenti di minoranza. Cioè sono investimenti in aziende che rimangono a controllo italiano. È il segno dell'apertura e della volontà di attrarre capitali. Sono assolutamente certo che questo sia un modo di procedere che sarà considerato un modo di procedere importante in Europa, ma che riguarda anche il vostro Paese. Il vostro Paese è di fronte a una fase simile a quella vissuta dall'Italia. È un momento di passaggio delicato e pieno di sfide. Non serve il timore, non serve la paura. Questo è il tempo dell'entusiasmo. Questo è il tempo della consapevolezza che ci sono grandi sfide che sono opportunità. E la vostra economia, così ricca di potenzialità, uno dei Paesi più ricchi al mondo per materie prime, per territorio, ma anche per intelligenza e qualità dei propri cittadini, non può che vedervi protagonisti. Tuttavia, la mia opinione è che questo cammino di crescita sia possibile soltanto investendo sul capitale umano, soltanto investendo sull'istruzione, sull'educazione, sulle università. Ecco perché sono qui. Ecco perché siamo qui. Non siamo qui per farvi prendere un po' di caldo o per distruggervi il pomeriggio. Siamo qui per dire che pensiamo che le università nel mondo di oggi, così ipertecnologico e così in fase di trasformazione, possano essere il luogo chiave decisivo per lo sviluppo. Tu puoi fare le riforme, devi fare le riforme, ma poi nell'era della cyber technology e dell'innovazione, ciò che fa la differenza è il capitale umano, è l'intelligenza, è la preparazione. E la vostra società, accolta e avanzata, ha tutto per poter fare la propria parte, per poter fare la propria differenza. Dunque, non ho ovviamente nessun tipo di ricetta da offrire, ho una doppia parola da condividere, credo che valga per voi come vale per noi. La prima è la parola responsabilità. Abbiamo bisogno di poter essere padroni del nostro futuro, senza accettare imposizioni dall'esterno, ma dimostrando di poter giocare un ruolo globale. L'Argentina lo può e lo deve fare in questa parte del mondo, l'America Latina, le Americhe, l'Italia lo deve fare in un'Europa che ha bisogno di scrollarsi di dosso la polvere del passato. L'Europa è la più grande intuizione politica del XX secolo, non c'è un'operazione più ambiziosa e più grande dell'Europa. Gli stessi paesi che per secoli si sono fatti la guerra, sono diventati parte di una stessa famiglia e di una stessa comunità. Mio nonno andava in Francia per fare la guerra, l'altro nonno in Grecia per fare la guerra. Per i miei figli la guerra al massimo può essere una partita di Champions League. Loro hanno vissuto l'Europa dei confini, delle frontiele. I miei figli vivono l'Europa dell'Erasmus, dello scambio di intelligenze. Non c'è cosa più grande di questa. Ma mentre ci diciamo che l'Europa è questa cosa straordinaria, dobbiamo anche sapere che negli ultimi mesi l'Italia ha intrapreso un'iniziativa per cercare di rendere l'Europa più dinamica, più innovativa. Non basta vivere di ricordi e di memoria del passato. Oggi, in un momento nel quale i grandi fenomeni di migrazione stanno toccando il nostro continente, l'Europa deve ricordarsi che cosa vuole essere, come vuole rilanciare, come vuole ripartire, quali sono i valori costitutivi della propria identità. L'Europa ha bisogno dell'Italia, l'America Latina ha bisogno dell'Argentina. Insieme nel G20, il grande foro dell'economia globale dove possiamo lavorare, abbiamo messo a punto alcune scelte strategiche che tengono insieme le parole occupazione e crescita. Io trovo molti amici e colleghi di altri paesi che mi fanno tutte le statistiche su tutti i numeri della finanza, su tutti i numeri e i parametri, ma se non è in pari il parametro dell'occupazione, di che cosa stiamo parlando? Se non ripartono gli investimenti, di che cosa stiamo parlando? Se non blocchiamo la burocrazia e liberiamo energie e smettiamo di bloccare i nostri paesi, di che cosa stiamo parlando? Nel G20 abbiamo a cuore la crescita inclusiva, è sostenibile, è solida e dunque Argentina e Italia condividono un progetto basato sulla green economy, le rinnovabili, le nuove tecnologie, lo sviluppo. L'agenda G20 va nella direzione seguita dall'Italia e dall'Argentina. Abbiamo una sensibilità comune per le tematiche di sviluppo che ci consentirà di favorire l'inclusività anche nel lavoro della Presidenza cinese. Ma dobbiamo anche fare la nostra parte, sono certo di poterne parlare nell'incontro di domani con il vostro Presidente Macri rispetto al processo di integrazione politica e economica tra Unione Europea e Mercosur. Risposte a sfide economiche, che vuol dire unità, maggiore integrazione. Ma anche e soprattutto, ecco il punto cruciale, una risposta di identità culturale. Perdonatemi se vi parlo una volta ancora di Europa, ma in questa fase della nostra esistenza una delle minacce più pericolose che arriva alla vita di tutti i giorni è il terrorismo globale. Il terrorismo globale sta scegliendo molto bene i propri bersagli, colpisce i musei, colpisce le sinagogue, colpisce le chiese, colpisce come è accaduto a Parigi i teatri, colpisce come è accaduto in Africa le università, colpisce le scuole come è accaduto in Pakistan. Questo terrorismo globale vuole andare a colpire, a combattere i valori che sono per noi valori più grandi. Da questo punto di vista voglio dirvi che la nostra sfida più grande non è il G20 o l'integrazione economica. La nostra sfida più grande è partire dal basso, con un'operazione che tenga insieme le ragazze e i ragazzi che studiano, le ragazze e i ragazzi che hanno voglia di futuro, le ragazze e i ragazzi che sono curiosi, essere curiosi viene dal latino, domandarsi il cur, il perché delle cose, che in qualche misura vogliono essere protagonisti. Le ragazze e i ragazzi che non si accontentano di essere spettatori, che non si accontentano di essere utenti, che non si accontentano di essere followers, ma sono leader. Le ragazze e i ragazzi per i quali calza a pennello il motto di questa università, Argentum Virtus Robur et Studium. La virtù dell'Argentina è la forza, è lo studio. Mi piace sottolineare l'accezione studium, nell'espressione latina, studio noi siamo abituati, specialmente noi che a scuola eravamo chiamati a dire ora devi studiare, ne abbiamo una concezione negativa, ma nel mondo latino lo studium non era soltanto un impegno, era passione, era qualcosa che esaltava. La stessa passione per lo studio che avevano dei giovani italiani, che voglio ricordare qui, in una università che appare lontana geograficamente, fisicamente, ma che non lo è dal punto di vista dell'affinità culturale. Voglio ricordare i due giovani italiani, Valeria Solesin, vittima di attentati a Parigi lo scorso novembre, e Giulio Reggeni, ucciso qualche giorno fa in Egitto, in circostanze ancora da chiarire. Voglio ricordare queste due persone per dire che insieme a tanti e tanti loro coetani argentini, sudamericani, europei, c'è già una nuova generazione di ragazzi che sono orgogliosamente italiani, orgogliosamente argentini, ma che sono anche cittadini del mondo, che lavorano nel mondo, che sono figli del mondo e che difendono gli ideali di cultura e di conoscenza. Ecco perché la posizione politica del governo italiano dopo gli attentati di Parigi è molto semplice. Giusto investire in sicurezza, giusto investire in difesa, giusto proteggere le nostre strade, ma per ogni euro investito in sicurezza occorre un euro investito in cultura. Per ogni euro messo a difesa delle nostre strade occorre mettere un euro per aprire i nostri teatri, per ogni euro messo a difesa delle nostre forze dell'ordine ci deve essere un euro affidato alla creatività giovanile, per ogni euro messo per una telecamera che controlla i nostri movimenti 24 ore ci deve essere un videomaker o un creatore digitale che investe sul futuro, per ogni euro in sicurezza un euro in cultura, soltanto così si vince la battaglia che i terroristi vorrebbero portare a casa. La battaglia per un mondo diverso, per un mondo in cui non si viva nella paura, non si stia a rincorrere i fantasmi ed è per questo motivo che credo che Argentina e Italia oggi abbiano, lo dico nella sede dell'Università di Buenos Aires, una grande responsabilità che è la diffusione della dimensione della cultura latina. Il mondo ha bisogno della cultura latina, il mondo ha bisogno dei valori che rappresentiamo e questa affinità culturale necessita dunque di uno sforzo maggiore che noi dovremo riuscire a mettere in campo. Naturalmente non voglio negare il fatto che nella fase che stiamo vivendo non ci sono soltanto le dimensioni culturali, penso agli sconvolgimenti che in questo momento sta vivendo l'Africa e credo che sia fondamentale che Argentina e Italia ad esempio possano lavorare insieme, per esempio in alcuni progetti sull'agricoltura. Noi abbiamo oggi un continente, l'Africa, che vede un incredibile aumento di investimenti cinesi ma che potrebbe essere fisiologicamente e naturalmente il terreno di contatto, il punto anche fisico di unione tra l'Europa e il Sud America. Penso a ciò che accade nel settore delle migrazioni, penso a quello che accade ancora oggi, e voi ne sapete qualcosa, nella necessità di promuovere investimenti sullo sviluppo, di combattere casa per casa le sacche di inefficienza della pubblica amministrazione. Penso però che ci sia bisogno anche di fronte a tutto questo di mantenere la nostra dimensione di umanità. In questi ultimi mesi mi è capitato più volte di avere alcuni sondaggi in mano, sondaggi che dimostravano come nel vedere crescere un sentimento di paura per le migrazioni e soprattutto per il rischio sicurezza che viene in qualche modo sobillato da una certa cultura della paura. In questi sondaggi vedevo i risultati e vedevo che il Governo rischiava e rischia magari anche adesso di perdere consenso per alcune scelte di immigrazione. Io vorrei dire che se c'è una cosa che noi italiani abbiamo imparato dagli argentini, quando gli emigranti eravamo noi, è che di fronte a un uomo che scappa, di fronte a un uomo che ha bisogno di ricominciare, di fronte a un uomo che vive la difficoltà, prima di preoccuparsi delle regole, prima di preoccuparsi della situazione personale, prima di preoccuparsi del futuro, c'è un gesto che è il gesto dell'accoglienza. Lo voglio dire perché nel 2015 che abbiamo vissuto, in molte circostanze, le donne e gli uomini della Marina Militare della Guardia Costiera italiana, rischiando talvolta la propria vita, hanno fatto di tutto per andare a raccogliere bambini, donne, uomini che rischiavano di morire nel Mediterraneo. Preferisco perdere dei punti nei sondaggi che perdere la mia idea di dignità dell'uomo. Preferisco perdere un punto nel consenso elettorale ma non perdere l'anima e i valori che hanno fatto grande il nostro Paese, che hanno fatto grande il vostro Paese. E credo che il popolo argentino da questo punto di vista ci abbia insegnato molto, ma poi tutti insieme abbiamo la necessità di scrivere la parola futuro. Lo potremo fare se chiederemo ai nostri giovani di non rassegnarsi al pensiero unico, di studiare con quella caratteristica di studio, di approfondire, di non lasciarsi tentare dal pensiero banale della mediocrità. Potremo farlo se saremo in grado di mettere al centro dell'azione di noi governanti, capi dei governi, innanzitutto lo sguardo dei nostri figli, lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi che immaginano un mondo diverso e che hanno bisogno di essere spinti a costruire questo mondo diverso. Ma lo potremo fare anche e soprattutto tenendo a mente che non c'è parola più grande dell'amicizia per descrivere la storia di popoli diversi. E allora vorrei citare alcuni versi, vorrei leggere alcuni versi di Borges quando nel poema alla amistà dice che non posso darei soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposti per i vostri dubbi o temori, però posso escoltarti e compatirli conti. Dico, non posso cambiare il tuo passato né il tuo futuro, però quando mi necessites è stare con te. Credo che queste siano parole di rara intensità rispetto all'amicizia. È l'amicizia che Borges provava attraverso la letteratura, ma che ciascuno di noi vive nella propria dimensione quotidiana. È l'amicizia che lega questi due Paesi, Argentina e Italia, non sono semplicemente due nazioni. Non sono semplicemente due puntini dentro il casellario delle Nazioni Unite. Non sono soltanto due mappe nella grande carta geografica del mondo. Sono due popoli con l'anima. Io sono qui a Buenos Aires per dire che con l'aiuto e il vostro consenso faremo di tutto perché questa storia straordinaria di bellezza che ci lega sia non soltanto ispirata oggi a un presente fatto di occasioni, di investimenti, di innovazione, ma sia soprattutto la chiave per fare del nostro futuro una grande occasione di sviluppo per i nostri figli. Il mondo ha bisogno di genialità, di passione, di arte, di cultura, di entusiasmo. Il mondo ha bisogno dell'Argentina. Il mondo ha bisogno dell'Italia. Grazie. 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 Per direntero sono 3 studianti della Università di Buenos Aires que faranno delle parole in queste parole delle parole. La staglia sarà di queste parole al questo per contatto. Grazie a tutti. Buona tardi. Io vorrei consultarle dato che lei studia è stato un militante politico juvenile. Che rol... No lo ha bisogno. No lo ha bisogno. Grazie a tutti. 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 Potrei parlarvi di altri paesi, in Europa, i movimenti giovanili dei partiti da tempo hanno smesso di avere una funzione attrattiva, non funzionano più. Non so come è in Sud America, ma in Europa noi abbiamo messo nel mio paese, in Italia, nel mio partito, a lavorare 400 ragazzi per fare formazione politica, per vederli preparati. Perché pensiamo che nei prossimi 20 anni sarà fondamentale la domanda di politica che arriva. Ho incontrato tante storie diverse in Africa, dove abbiamo visitato più volte, ma non so rispondere alla domanda se i movimenti giovanili di per sé sono decisivi o no. So una cosa, che i giovani che si avvicinano alla politica devono avere degli ideali. qualsiasi lavoro nel movimento giovanili. Allora mi permetterai di dirti la cosa più bella che secondo me noi stiamo facendo. Non ne parla mai nessuno. Non so quanti di voi, italo-argentini, conoscete l'isola di Ventotene. Un po'. L'isola di Ventotene è un'isola che è nel Martirreno, è ancora nella regione Lazio, ma è già verso Napoli, è vicina all'isola di Ischia, vicina a Capri. È un'isola dove da secoli gli italiani e prima ancora gli antichi romani mandavano le persone al confino, in una sorta di prigione permanente. È un'isola bellissima, ma non facile da raggiungere. Si dice anche la figlia di Augusto, Giulia, fosse mandata proprio nell'isola di Ventotene. Durante il fascismo, l'isola di Ventotene era l'isola dei più grandi personaggi dell'antifascismo. Colui il quale sarebbe diventato Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, fu nel carcere dell'isola di Santo Stefano, accanto a Ventotene. Umberto Terracini, che fu il Presidente dell'Assemblea Costituente, la Costituzione porta la sua firma, fu rinchiuso in quell'isola. E tra gli altri c'era un personaggio che si chiamava Altiero Spinelli. Insieme a Rossi, insieme ad altri, Spinelli scrisse nel 1941, quando fuori c'era la guerra mondiale, quindi la guerra fratricida europea, che si chiamava il manifesto per gli Stati Uniti d'Europa. Ora, voi immaginate la scena. Nazismo, fascismo, sembra che l'Inghilterra non regga, Hitler bombarda Churchill, la Francia è distrutta o quasi, e ci sono questi giovani che dall'isola di Ventotene scrivono il Manifesto per un'Europa libera e unita. Sarà proprio Altiero Spinelli uno dei capi dell'Europa che cambia, dell'Europa verso il federalismo. Ma ti ho raccontato questa storia perché a Ventotene noi abbiamo deciso di mettere dei soldi, di ristrutturare quello che era il carcere, di farlo diventare una foresteria per giovani studenti e dal prossimo anno centenario della morte di Spinelli ospiteremo dei giovani dell'Europa e del Mediterraneo per venire in quel luogo a riscoprire gli ideali che hanno fatto grande un Paese. Allora, non so qual è la soluzione, movimento giovanile o non movimento giovanile. Io vi dico, qualsiasi sia la vostra scelta, chi di voi vuole far politica, che facciate o no al movimento giovanile, tenete forti i vostri ideali. Ricordatevi ogni giorno che chi fa politica non la fa perché insegue una poltrona. Il più grande lusso della politica è la qualità delle relazioni tra le persone, è la qualità dei rapporti umani. Non dimenticate mai gli ideali che vi hanno mosso. Seconda considerazione, il vostro governo, ho conosciuto il presidente Macri quando ero sindaco di Firenze e lui era sindaco di Buenos Aires, capo del governo di Buenos Aires e ci siamo incontrati a Copenaghen quando le città lavoravano per creare un modello di sviluppo diverso. vi ricordate? Era la conferenza sull'ambiente grande prima di quella di Parigi, 2009. Vi confesso che la prima cosa che gli ho chiesto è che gli ho parlato del Boca Juniors più che di Buenos Aires, ma poi abbiamo parlato anche delle nostre città. Io credo che con il presidente Macri, ci vedremo nelle prossime ore, abbiamo interesse a rendere più forte il rapporto Europa-Sud-America, in particolar modo in questo momento l'America Latina ha molto da ricevere dall'Argentina. L'Argentina può giocare un ruolo di stimolo importante in questa fase, possiamo incentivare lo sviluppo bilaterale dei due Paesi e possiamo fare un grande lavoro insieme. quindi io sono molto ottimista sul fatto che si possa fare un lavoro serio. So che il presidente Macri ha vinto elezioni difficili, il ballottaggio si è svolto con un risultato sul filo di lana, a maggior ragione credo che sarà importante per l'Argentina in questi mesi, in questi anni, dimostrare di essere quello che è, un grande Paese, una grande economia, perché voi siete una grande economia, nessuna crisi può togliervi questa etichetta, uno dei Paesi più ricchi del mondo in termini di materiale, di prodotti e io sono certo che con il presidente Macri potremo fare un grande lavoro insieme. Questo è anche il motivo per cui io sono venuto qui oggi. Sono qui prima visita in Argentina ma non è che faccio un giro in America Latina, sono venuto per stare in Argentina, per starci poco tempo perché non si sa mai cosa succede in Italia e invece no, vi frego su questa, perché l'Italia con le nuove riforme è diventata uno dei Paesi più stabili d'Europa. Non ci crede nessuno, neanche noi italiani. Delle volte ci diamo come un pizzicotto per dire ma davvero siamo noi quelli più stabili. Guardo le graduatorie e vedo che noi fino al 2018 non votiamo. Votano prima i francesi, i tedeschi, gli spagnoli hanno una situazione di ingovernabilità, c'è il referendum nel Regno Unito. L'Economist un mese fa ha scritto e se fosse l'Italia il Paese più stabile dell'Europa tutti noi siamo rimasti quasi colpiti, ci siamo quasi rimasti male. Però questo per dire che il rapporto con l'Argentina per me è molto importante e sono molto ottimista sul rapporto con Macri. Infine sulla vicenda europea. Non sono molto diplomatico per cui devo trovare il modo di dirla bene ma credo che non ci riuscirò. La sintesi estrema è che in questi ultimi otto anni le politiche di sviluppo fatte dall'America di Obama sono state giuste. Le politiche di sviluppo fatte dall'Europa dell'austerity sono state sbagliate. E non è che ci può fare troppi giri di parole. Attenzione l'Italia deve tenere sotto controllo il proprio debito pubblico. L'Italia deve stare attenta ai conti e vale per tutti i Paesi vale per voi per noi. L'Italia deve essere molto saggia a usare i soldi con la prudenza di quello che i latini chiamavano il bonus pater familias però una volta che abbiamo detto questo e una volta che stiamo facendo le riforme dobbiamo dire lo dico agli studenti di economia di scienze economiche fate un esperimento guardate i numeri degli Stati Uniti e dell'Europa mettete il punto X il punto 0 al 2008 quando arriva Obama vedrete che all'inizio la situazione peggiora un po' ma poi risale in termini di PIL di GDP negli Stati Uniti e cresce l'occupazione da noi in Europa è stato l'opposto l'Europa ha smesso di crescere e la disoccupazione si è fatta sentire allora la mia opinione è che l'Europa ha sbagliato politica economica oggi c'è bisogno di recuperare i valori fondamentali dell'Europa la gente non ha fatto l'Europa perché voleva condividere un parametro di Maastricht hanno fatto l'Europa i nostri padri perché volevano un continente di pace di innovazione di speranza questo continente in questi ultimi mesi è fermo negli ultimi mesi addirittura alcuni paesi hanno iniziato a proporre di fare i muri di tirare su i muri se ci pensate l'Europa è cresciuta quando è caduto il muro di Berlino i muri in Europa devono cadere non devono andare su se torniamo a costruire i muri si perde lo spirito europeo allora di fronte a questo l'Europa dei padri ha fatto tante cose adesso tocca l'Europa dei figli rilanciare quell'ideale e io penso che toccherà la nostra generazione dico soltanto parzialmente perché per me uno dei principi chiave è quello di recuperare la regola dei due mandati in Italia come sapete questa regola non c'era si iniziava a far politica a vent'anni e si finiva a 80 anni quando andava bene io credo che non sia più così e che il nostro modello in Italia dovrà essere come quello degli Stati Uniti fai due mandati e poi vai a fare altro ora vedo che molti applaudono segnalo che sono al primo io ancora però è esattamente quello che penso per me io penso che se vincerò le elezioni del 2018 farò l'ultimo mandato e poi a 48 anni conto di cambiare vita allo stesso modo però vorrei che nessuno sapesse di doversi dimettere da cittadino e quindi l'esperienza di un'Europa unita con dei valori deve caratterizzarti sia che tu faccia il primo ministro sia che tu faccia l'ultimo dei cittadini in ogni caso lasciatemi dire grazie per le vostre domande in bocca al lupo per la vostra carriera universitaria sappiate che in un mondo in cui le grandi aziende stanno lavorando sui robot su tutto il tema della tecnologia dell'intelligenza artificiale noi abbiamo grande bisogno di intelligenza naturale non è vero che siccome viviamo l'epoca dell'intelligenza artificiale non c'è più bisogno dell'intelligenza umana tutt'altro nell'epoca dell'intelligenza artificiale cresce anche la stupidità artificiale ma cresce il bisogno di avere donne e uomini competenti capaci appassionati auguro alle studentesse e agli studenti dell'università di Buenos Aires di essere dotati di questa passione di questa curiosità è un gigantesco in bocca al lupo per voi e per il vostro futuro a continuazione la signora vice-rectora professora Nellida Cervone harà entrega di un plato recordatorio di la Università di Buenos Aires di questa maniera damos per finalizzata questa conferenza magistral del Primer Ministro Matteo Renzi agradecemos a tutti per la presenza tenendo a tutti molto buona tardi ricordate che devono devolver i equipi di la traduzione simultanea grazie grazie mille grazie di cuore grazie mille grazie a tutti grazie a tutti